Salve, sono Leonardo Di Noi, socio Lions e membro di Lions Life Ability. Il 22 novembre di quest'anno insieme all'Università di Verona e l'Associazione Laureati in Verona in Economia e Commercio abbiamo affrontato il tema Economia, Etica e Sostenibilità. Con questo evento abbiamo voluto dare l'opportunità agli studenti e non di ascoltare sia gli studi più avanzati nel settore che le esperienze di imprenditori e manager caratterizzati da forti comportamenti etici. Il programma è quello che vedete nella slide. Il convegno è stato introdotto dai saluti dei rappresentanti degli organizzatori, presente anche il governatore del distretto Lions 108 TA1 Carlo Ferrari. Un particolare chiaro intervento all'inizio dei lavori è stato effettuato dal presidente di Life Ability Enzo Taranto che ha illustrato ai partecipanti come il concorso è nato e quale è lo scopo dei due bandi Life Ability Award e del nuovo Life Ability for Humanities. Al termine dei lavori ho personalmente illustrato le modalità di partecipazione ai due concorsi e dei relativi premi costituiti da denaro, supporto nell'elaborazione di modelli di business, stage presso aziende e viaggi di lavoro. Il primo concorso Life Ability for Humanities è già partito e premia un elaborato narrativo o una novella grafica. Il secondo, che partirà a gennaio 2024, premia un'idea innovativa e realistica rivolta al sociale ed in grado di migliorare, semplificare, rende fruibili, a costi sostenibili, i servizi pubblici e privati della comunità. Entrambi i concorsi sono rivolti a studenti e lavoratori di età compresa fra i 18 e i 35 anni. Negli interventi succeduti vi è stata una prima parte con le relazioni tra i docenti universitari. Dopo vi sono state le testimonianze di imprese operanti in diversi settori, sia nel sociale che non, start-up ed imprese già consolidate. Coloro i quali volessero partecipare ai concorsi possono farlo tramite i siti www.lifeabity.com e www.lifeabity.com che vedete nella slide. Ora come relatore abbiamo la professoressa Sabrina Bonomi dell'Università eCampus che tratta il tema etica e impresa. Sabrina Bonomi. Su Escursus sono tutti interventi brevi perché il tempo non è tantissimo ma sono degli spunti sicuramente che meritano approfondimento. Abbiamo parlato di sociale, quindi di responsabilità sociale, di sostenibilità non solo ambientale ma appunto anche nel sociale. Quindi ora concludiamo questo trittico di relazioni con Sabrina Bonomi che è docente dell'Università eCampus ma non solo, appunto ha una lunga storia nel terzo settore e quindi approfondirà il rapporto tra etica ed impresa. Grazie Elisa e buonasera a tutte le persone presenti e io mi illudo che ci siano giovani invece a distanza visto che abbiamo previsto anche il collegamento e come mi dice sempre Luisa guardiamo la parte mezza piena. Allora vi ringrazio veramente per questo invito e ringrazio soprattutto chi mi ha preceduto perché mi agevolerà moltissimo nell'esposizione. Io non ho portato slide non solo per non fare le figure di Sara ma perché credo che quando abbiamo le slide tendiamo, ma lei è stata Abile ha messo molte immagini, a guardare quelle. Invece mi piacerebbe che ci relazionassimo e che ci fosse un confronto su questi temi. Sara chiudeva con due provocazioni. La prima il fatto che la rendicontazione non debba essere vista come un obbligo. La seconda che il nostro tema oggi sia quello di non tanto di raccontare quanto di essere delle organizzazioni e delle imprese che si preoccupano di ambiente e di comunità mi permetto di dire oltre che di profitto. Allora etica a me è stato chiesto di trattare il tema dell'etica o meglio dell'impresa etica. Allora l'etica è una parte della filosofia che si preoccupa di affrontare quelle problematiche legate diciamo ai comportamenti dell'umano quando questi comportamenti ci portano a discernere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è bene e ciò che è male. Non avremmo bisogno dell'etica se vivessimo isolati e al di fuori da qualsiasi relazione ma quando ci portiamo in collettività dell'etica abbiamo assolutamente bisogno. L'etica però non è una norma, non è la morale, non è un tema che ci dice che cosa è giusto fare, cosa è sbagliato fare anche perché le leggi faticano a dare un confine all'etica e l'etica è diversa a seconda del contesto nel quale noi siamo inseriti perché si basa sui valori delle persone e delle organizzazioni e i valori non sono gli stessi nei diversi contesti culturali e nemmeno nei diversi contesti ambientali ed economici. Allora perché l'impresa però deve essere etica? Allora innanzitutto ringrazio il professor Cipriani che giustamente diceva se non abbiamo imprese sostenibili non parliamo nemmeno di sviluppo ma parliamo di inviluppo e chi mi ha preceduto sosteneva che questi non sono temi nuovi. Io vi dirò di più quando la prima cattedra di economia che noi abbiamo avuto in Europa ce l'abbiamo avuta in Italia ce l'abbiamo avuta a Napoli e ce l'ebbe la batte genovesi il quale scriveva un trattato che diceva lezioni di commercio ossia di economia civile quindi non lo vedeva come una dicotomia profitto versus etica o come è stato fatto poi con la responsabilità sociale d'impresa faccio il profitto come voglio e poi mi preoccupo con delle pratiche compensative di piantare gli alberi di scrivere ma diceva che c'era una contemporaneità tra la produzione del profitto e il tema della civiltà. Lui si appoggiava a una logica aristotelica ma soprattutto platonica dell'etica che era vista come l'eudaimonia e l'eudaimonia vuol dire il buon demone cioè ci occupiamo di felicità pubblica che per Aristotele era dovuta al contesto al caso alle situazioni per Platone era legata alle virtù civili ecco perché l'economia e le imprese devono essere etiche per mettere in campo le proprie virtù non soltanto per innovare da un punto di vista del creare qualcosa che prima non c'era non soltanto per rispondere a dei bisogni di tipo economico ma soprattutto per preoccuparsi di tutte quelle categorie di stakeholder che con l'impresa hanno a che fare comprese la comunità di appartenenza comprese l'ambiente e far sì che tutti questi portatori di interessi siano in armonia e se noi teniamo in armonia interessi che per natura sono contrapposti facciamo quello sforzo e quel discernimento che l'etica ci porta a fare allora è chiaro che non è una strada facile essere etici non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza e di rimessa continua in discussione perché se noi dobbiamo davvero discernere quando ci preoccupiamo professor Ricciuti faceva notare come ogni azione che noi facciamo o che noi subiamo ha tutta una serie di conseguenze e che sono conseguenze a 360 gradi allora noi dobbiamo preoccuparci dell'etica d'impresa proprio perché abbiamo visto che le imprese non etiche sono quelle che poi portano a disuguaglianza portano alla infelicità e Sterling studiava il paradosso della felicità e ci dimostrava che in un'epoca in cui mediamente siamo più ricchi quindi il nostro profitto sale mediamente però il professor Ricciuti ci ha fatto ben capire come la media non ci dica niente il mediamente però siamo anche più infelici e i suoi studi dimostrano che con il crescere della redditività con il crescere del benessere economico si sono sono aumentate anche tutta una serie di difficoltà di infelicità di fatiche allora il motivo sono aumentate le disuguaglianze sono aumentate le problematiche di tipo sociale e sono evidentemente peggiorate le condizioni dell'ambiente nel quale siamo inseriti allora perché abbiamo detto dobbiamo occuparci di questo quando allora un'impresa etica un'impresa è un'organizzazione come si diceva sociale guidata da obiettivi che sono chiaramente coordinati allora un'organizzazione sociale fatta di persone in relazione tra loro quindi un'impresa etica quando sono etiche le persone che la compongono quando la sua cultura organizzativa cioè i valori di fondo sui quali imposta il suo agire sono etici e si preoccupano non solo di realizzare profitto ma del come quel profitto è realizzato e di conseguenza si preoccupano dei bisogni che non sono solo quelli degli azionisti ma sono anche quelli dei lavoratori sono quelli dei consumatori sono quelli dei concorrenti sono quelli dei fornitori sono quelli dei clienti quindi sono quelli di tutti i soggetti che hanno a che fare con essa compresa la comunità di appartenenza allora se questo è vero questa cultura non può rimanere soltanto nel fondatore o in chi la dirige ma deve essere una cultura ecco la formazione che è importante ma anche la comunicazione che viene condivisa diffusa perché non può esserci qualcuno che va in una direzione qualcun altro che va in un'altra e quindi tutta l'organizzazione deve avere dei valori che condivide e dei valori che porta avanti ogni giorno chiedendosi ecco l'etica che ci aiuta a discernere ciò che è giusto e ciò che non lo è ciò che ci aiuta a impattare bene non solo nel breve periodo ma anche nel medio nel lungo periodo perché a volte dei comportamenti che nel breve periodo ci danno delle grandi soddisfazioni nel medio lungo poi portano invece degli impatti che sono assolutamente negativi quindi cultura organizzativa progettazione organizzativa noi dobbiamo pensare a darci dei ruoli a creare una tipologia anche di organizzazione che sia partecipata Sara diceva coinvolgiamo le persone e quindi cambiare le nostre strutture e fare sì che ci sia una vera partecipazione degli stakeholder perché a volte nelle imprese rischiamo di dare risposte a domande che nessuno ci ha fatto o a bisogni che nessuno ha mostrato di avere perché le risposte vengono date dall'alto e non coinvolgendo le persone che invece hanno bisogno di quelle risposte io dico sempre che quando facciamo welfare aziendale dovremo prima di tutto fare un'indagine per capire di che cosa le persone hanno bisogno perché i bisogni poi non sono gli stessi per tutti e non sono gli stessi lungo l'arco della vita quando io avevo tre figli piccoli avevo bisogno della flessibilità di orario avevo bisogno magari di supporto per guardarli per la scuola eccetera dei buoni acquisto mi interessava il giusto dei buoni pasto forse ancora meno mi sarebbe interessato andare a casa per tempo e avere qualcuno che mi aiutasse a occuparsi di loro per non farmi sentire sempre sbagliata quando ero al lavoro perché non ero a casa e quando ero a casa perché non ero al lavoro allora faccio un esempio molto banale ma anche per far capire che cosa intendo poi la strategia deve essere etica Sara ci diceva come queste valutazioni devono essere cruscotti aziendali che ci aiutano davvero a decidere che cosa fare nel nostro futuro quando io impatto poco e male nella società e nell'ambiente devo cambiare ovviamente la mia strategia perché magari realizzo profitto ma lo sto realizzando in maniera non positiva e quindi quella profittabilità nel tempo non mi garantirà più nemmeno la sostenibilità perché la sostenibilità ormai è dimostrato è triplice come ci diceva Sara e quindi deve essere economica sì perché se non sono sostenuto da una redditività non riesco ad investire non riesco ad innovare non riesco banalmente a mantenere l'occupazione ma devo anche pensare che deve essere sostenibilità anche ambientale e sostenibilità anche sociale e come dicevo prima questo fa bene alla comunità all'ambiente ma soprattutto fa bene alle imprese perché le imprese etiche oggi hanno una reputazione migliore una reputazione che si traduce in maggior accesso al credito e miglior accesso al credito che si traduce in miglior attrattività di talenti e trattenimento di quei talenti si traduce in proattività delle persone che lavorano perché quando in un ambiente stiamo bene quando ci sentiamo di godere della fiducia di chi ci dirige che sono tutte tematiche che genovesi appunto in quel suo trattato che è del 1754 quindi non stiamo parlando di cose nuove scriveva appunto che dobbiamo avere fiducia nelle persone e andare verso una felicità pubblica perché se la felicità non è pubblica non è nemmeno felicità e quindi avere fiducia nelle persone fa sì che loro si assumano responsabilità perché quando godiamo della fiducia di qualcuno sentiamo di dover restituire quella fiducia e ripagarla con quella responsabilità che non è imputabilità noi responsabilità la facciamo spesso derivare da risponde o no chi è il colpevole mentre responsabilità è rispondus mi faccio carico della cosa mi prendo sulle spalle e ancora una volta c'è la radice del ponderare cioè discernere soppeso ragiono e cerco di capire costi opportunità si diceva prima che cosa è bene fare allora si traduce in vantaggio anche degli azionisti che investono più volentieri si traduce in una gestione migliore del rischio che diventa preventivo e non soltanto poi una cura quando ormai le problematiche sono avvenute è compliance sì quindi rispetto delle normative ma è soprattutto prevenzione cioè preoccupazione è soprattutto attenzione e un'innovazione di tipo appunto socioambientale quindi le imprese oggi non possono più vedere l'etica e l'economia in antagonismo non lo è mai stata alle origini lo è diventata successivamente perché purtroppo i comportamenti opportunistici ci portano a volte a distorcere i significati ma l'economia nasce etica e sono state le nostre scelte perché quando genovesi scriveva questo trattato e parlava di economia civile parlava di persone al centro parlava di fiducia gratuità reciprocità contemporaneamente c'era tutto un filone nel mondo anglosassone che ci portava invece a dire che perseguendo il nostro interesse individuale ci sarebbe poi stata una mano invisibile che avrebbe riequiparato le cose credo che questo è giustamente un'organizzazione di laureati in economia quanti di noi hanno sentito parlare all'università di economia civile quanti invece hanno studiato i trattati anglosassoni quanto allora le nostre scelte visto che parliamo di formazione necessaria sono state determinanti anche nel creare una cultura che non ci sta portando a una felicità pubblica io credo che invece dovremmo ripensare alle nostre origini e quindi ripensare un'economia più umana per ritrovare una sostenibilità triplice reale quindi da un punto di vista di tutti i nostri comportamenti che sono individuali ma sono soprattutto collettivi per prenderci cura di una comunità che poi a sua volta garantisce alle imprese di continuare a prosperare e a vivere sono stata nei tempi grazie grazie Sabrina Bonomi chiudiamo qui la parte grazie a tutti